Ecco qua, su questa serra troviamo le nostre proposte sia delle composizioni che delle piante con il vaso di ceramica. Questa è un Echino Cactus Grusoni, è una pianta che vogliamo proporla questo inverno per Natale, perché ha una fascetta tipo natalizia, la pianta è colorata di rosso con dei brillantini color argento, usiamo delle colle che non fanno assolutamente male alle piante perché le colle sono al base d'acqua e la pianta viene leggermente spruzzata con i brillantini. Un'altra novità di quest'anno sono le piante con il fiore finto, questo fiore qui è finto, è attaccato sempre con una colla al base d'acqua che non fa assolutamente male alle piante, in modo che possiamo avere tutto l'anno le piante grasse fiorite. Ecco, le troviamo di diversi colori, dal bianco al giallo, rosa, fucsia, arancio. Ecco, sono graziose, molto belle. Un'altra proposta sempre per Natale sono le piantine con la scatola, sono pensate più o meno a un'idea regalo perfetta, sempre con il logo Giro Magi, la piantina con il fiocchettino e il vaso. Il vaso, diciamo, è di ceramica bianca, molto bello. In questa versione, sempre per Natale, abbiamo il nostro brusone con dei brillantini che può avere delle decorazioni rose, verdi, rosse. Il vaso cambia in base alla, può essere bianco, verde e tanti altri colori. La nostra Sanseveria con dei brillantini è una scatolina molto decorativa. Passando avanti, troviamo anche delle composizioni. Le composizioni più o meno abbiamo tutto l'anno perché è un prodotto che vendiamo tanto. Le nostre composizioni, ecco, sono di diverse, diverse forme del vaso. Potete vederlo anche qui. Passiamo dal medio, piccolo, basso. La nostra campionatura sono i vasi di terracotta di ceramica di diversi colori. Questa è sempre un'altra proposta per Natale. Aloe Arborations, sempre con dei brillantini. e la Sanseveria, sempre su un vaso bianco molto lineare. Qui potete vedere altre composizioni. I vasi di vetro, che è veramente una chicchina. Ecco, i vasettini rettangolari. Sempre con la loro scatola, in modo che... Ecco. Anche delle dimensioni un pochettino più grandi. Allora diسبση Rechts ma che viene insieme aane. Ma �'abb Turbo.